Lo sai che bello che faceva pure? Oggi, 12 aprile, siamo in mezzo alla neve, mezzanotte e un quarto, siamo sulla neve e domani mi cadrò nell'uso di antibiotici. E siamo arrivati qui dopo aver incontrato una volpe, un riccio e due cani, un moglie e un marito. Giustamente. Che figata!